Sono settimane che i fan ipotizzano un ritorno di fiamma tra Aldo Palmeri e Alessia Camarota. Dopo la decisione di separarsi, i due sono tornati a farsi vedere insieme sui social network. È stata Alessia la prima a riavvicinarsi pubblicamente al suo ex, l'uomo che ha sempre ammesso di non aver dimenticato. Attraverso una serie di tag postati sui social, l'ex corteggiatrice aveva lasciato intendere di aver recuperato un buon rapporto con il padre di suo figlio Niccolò. Sempre sul suo profilo Instagram Alessia ha condiviso una foto che ha fatto volare immediatamente in alto le speranza di quanti ancora credono nel loro amore. Nello scatto in questione compaiono proprio i due ex coniugi, fotografati in posa e chiaramente complici. A spegnere le speranze dei fan è stata proprio la Camarota che, nel tentativo di arginare i pettegolezzi, ha negato il ritorno di fiamma in corso in risposta a quanti le chiedevano se fossero tornati insieme. Non è come pensate, tranquille. È innegabile che, nel corso degli ultimi mesi, tra Aldo e Alessia sia tornato il sereno. L'extronista e la donna sposata a circa un anno dalla scelta si sono lasciati poco prima dell'estate a causa di un tradimento di palmeri. Ospiti di una puntata di uomini e donne a loro dedicata, fornirono due punti di vista differenti sulla crisi. Alessia sarebbe stata pronta a tornare con lui, Aldo già proiettato verso un futuro senza di lei. Negli ultimi tempi, invece, i due si sono riavvicinati. Alessia è tornata a lavorare nel locale che ha aperto insieme al suo ex all'epoca in cui si trasferirono in Sicilia. Entrambi sono tornati sui social e non è raro che si tagghino o pubblichino foto in cui compaiono insieme. Resta da capire se l'affinità ritrovata sia il frutto di un ritorno di fiamma che vogliono tenere segreto, o solo la voglia di recuperare un rapporto d'amicizia per i bene del loro bambino. Chi se ne frega.